Giustamente l'emergenza è nazionale e noi non ci sottraeremo certo a questo confronto, ci mancherebbe. Siamo anche più contenti che ci sia un modo di operare omogeneo per tutte le regioni. Noi siamo pronti, abbiamo già predisposto tutti gli strumenti, è chiaro che quelli di carattere più sanitario resteranno sicuramente valide. Le parti che entrano in discussione sono soprattutto quelle che riguardano le scuole e le manifestazioni. Quindi è quegli aspetti più impattanti sulla comunità che probabilmente verranno regolati con indirizzi di carattere nazionale. Quindi il lavoro l'abbiamo fatto, siamo pronti, domani ci sarà questo confronto, a seguito di questo confronto poi manderemo l'ordinanza.